Le forze governative siriane appoggiate da milizie iraniane hanno compiuto un'avanzata nel nord di Aleppo prendendo il controllo del campo palestinese di Andarat, finora una roccaforte dei ribelli. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani, secondo cui sono almeno 25 i civili morti nei raid, mentre altre fonti parlano di un numero doppio di vittime. Sempre secondo l'opposizione continuano anche i bombardamenti dell'aviazione russa e di quella governativa. Stamattina molto presto ci hanno attaccati con missili e hanno ucciso sette bambini e la loro madre. Ci sono anche altri morti. Non c'è nessuna difesa civile, hanno distrutto il paese, non c'è nessun aiuto. Ancora adesso ci sono molte persone sotto le macerie e stiamo cercando di tirarle fuori. L'Unicef infine lancia un nuovo allarme per i due milioni di siriani ancora presenti ad Aleppo, rimasti senza acqua e senza luce proprio a causa dei combattimenti, come era già successo il mese scorso.